ci siamo buonasera a tutti e ben ritornati qui nel mondo del survival horror con il vostro lelix di quartiere siamo qui ragazzi pronti per continuare e probabilmente questa sera terminare la nostra run con gil su resident evil di reactor scat resident evil 1 per gli amici quindi facciamo subito lord game quanto mi sento a casa quando sento questa questa mi prude il naso ok questa resident evil tra l'altro ragazzi intanto memory card 1 ragazzi vi giuro che quando quando metto questo gioco mi sento un bimbo cioè quando metto resident evil originale torno bambino è una sensazione bellissima intanto col telefono vado su twitch almeno seguo la chat in diretta live e allora eccoci qua pronto per un'altra per un altro episodio in notturna perfetto ciao glory che piacere vederti in live così tardi carichiamo il salvataggio vi ricordo che abbiamo finito le fogne nello scorso episodio quindi teoricamente ora dobbiamo andare nel nel laboratorio quindi nella parte finale del del gioco grande grande like ce la fai eccoci qua ciao mi sei mancata quindi probabilmente domani ci iniziamo la run odio se finiamo presto anche stasera in realtà con chris allora perfetto in crimp ci riposiamo questi qua ci serviranno praticamente ora ci teniamo il lancia granate ciao clap è tornato bomber e andiamo così le cure non le preno non prendo niente voglio fare il temerario tra due secondi morirò è sempre così quando io devo fare il temerario finisce sempre male ma speriamo di no perché sennò cosa hai fatto oggi hai iniziato il remake del primo scommetto maledetti serpentaccio cosa c'è qua niente niente ah ci ho preso che hai iniziato il remake del primo io oggi sono stato tutto il giorno in indagine con ght italia e dalle due e sono tornato a casa poco fa ho fatto una doccia e ora sono in live sono stanchino però troppo voglio giocare allora tutto prosegue minchia complimenti no è la serie sul cod veronica è lunghina eh sono non so quanti episodi ma una decina forse anche di più grande ti è piaciuta? ciao amore bentornata eccoci qua ah se non sbaglio qui esatto sono delle piantine che fanno il caso nostro che belli questi grilli sì probabilmente questo cane zombie è in calore perché c'è ulula in una maniera incredibile so che mi clipperete tra adesso in questa mia frase che è in calore però è la verità nove episodi da 50 minuti l'uno tranne l'ultimo che era di un'ora e dodici complimenti in che nella giornata si è sbagliato si si è abbonato infatti ha sboccato lo zumbino allora ecco qua c'è l'entrata per a picture of a igolla ok quindi qui ci va questo mentre qui no qui niente quindi qua ci va il lupo zona finale del gioco si lui ha fatto l'abbonamento con prime quindi non ha pagato non ha pagato l'abbonamento mi sa che è gratuito però clà dipende dall'abbonamento che fai perché probabilmente l'hai fatto di livello 1 l'abbonamento cioè quello standard perché se fai l'abbonamento quello gli altri ti sblocca appunto il livello 2 il leaker poi il livello 3 ti fa il nemesis in realtà non l'ho capito forse devi essere abbonato frequentemente per sbloccarli oppure devi fare l'abbonamento per maggior tempo siamo nei laboratori ecco ragazzi io non mi ricordo un cacchio del dei laboratori dell'originale ma proprio zero ci ho in mente solo quelli del remake porca vacca non mi ricordo una ceppa ecco 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 C'è una macchina a scrivere qua, no C'è proprio, c'è solo la cassa Vabbè, vogliamo le cure Eeeh, sì Andiamo... Ah no, c'è la pentina rossa, aspetta Qua possiamo fare una cura completa Perfetto Ciao Dan Buon hot Eeeh, eh 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 Qua Allora Noi qua non abbiamo nulla di importante C'è sì, i modisk in effetti I modisk dobbiamo prenderceli Abbiamo la magnum Chi ci servirà tra poco Dove sono? Modisc Quasi ci riprendiamo subito E andiamo Addentriamoci nell'ultima Area Del gioco Uh, zombini Ciao mon amore Aspetta che ti schivo te Aspetta un attimo Vieni qui Non sgommare Ciao Un altro Ciao anche a te Schivati tutte e due Ci sono due piantine che prendiamo dopo però Qua c'è l'altro modisc Ho sbaglio? Sì Ultimo modisc Perfetto E li abbiamo tutti e tre Quindi Chris Teoricamente è salvo Vabbè te dai Ok Ok questa è Electronically locked Ok È bloccata elettronicamente Zumbino mi fai prendere le Vabbè dai Voglio le piantine Non è per cattiveri Io ho la nottata occupata Perché ora sono trasmetto in live Poi più tardi mi sa che mi monto i video di oggi Così domani ho Il giorno relax Ok Vado a posarmi sta roba ragazzi E almeno Ma non hai sonno Sono stanco ma sono no Eh lo so No sono stanco Sono stanco Non sono un robot Però Lo faccio volentieri Cioè se non mandasse Non lo farei Domani alle 16 e 30 Sì Teoricamente domani non ho niente da fare Domenica poi Ok Beh dai Di cura siamo messi molto molto bene Ok Ok andiamo Qui tra l'altro Dovrebbe esserci delle password A metta che non mi ricordo mai quali sono Mi sa che una password è Ada E l'altra è Chell Sì Uh qua sono gli zombie nudi È vero Salve Porco cane Non vedo niente Ok Ok Questo buco qua Uh Un nastro Che non prendo però Mi serve lo spazio Tanto i nastri ne abbiamo Ne abbiamo 11 o 13 Non mi ricordo Si parlano un sacco In persona 5 È vero Eh Ok Quanti siete No I colpi Madonna Inquietantissimi versi di questi zombie qua Allora non mi ricordo una ceppa qua Raga vado a caso Ok Qua è chiusa Qui È chiusa Ma molto bello Non è interessante Glow È bello Persona 5 È veramente un bel gioco Tanta roba Hai filmati proprio fatti anime Ok qua è aperto Però è impegnativo Cioè è bello lungo La storia è molto accattivante Non mi ricordo una ceppa Perché non mi ricordo niente Poi c'è un Cosa è questo? Ah questo è il film Mi sa Slide Alle slide Sì vabbè Il film Il film Oddio Non mi ricordo Una pava Ok Chemicals Chemicals Nothing usual Se lo dici tu Gil Nothing special C'è più niente qua dentro Solo Vabbè c'è il film Oh Ma questo è un computer Per oggi Questo è un bel computer Is this computer Is used to open the electronic Ok Sì Che bel logo Umbrella Qua c'è da mettere la password Vediamo se mi ricordo Login Oddio Ada Proviamo Ah no Login e password Cell Forse Vediamo Cazzo Cazzo Jill stai calma 1 2 3 4 Classico No raga No raga Me la dovete Me la dovete Cercare la password Non me la ricordo Ah no Forse era John Aspetta Aspetta Forse mi ricordo John Vediamo Se mi ricordo Bene John E password Cell Oada 2 Sì Giusta Minchia che memoria Lele V2 Mamma C'è mi ricordo Le password Di 20 anni fa Password Questo dovrebbe essere Cell Andiamo Vai Jill Siamo degli Hacker No Non è Cell Cazzo Oddio Questa non me la ricordo Forse era tipo Talpa Talpa in inglese Com'è che si scrive Perché mi ricordo Che era tipo O talpa O Era un animale Comunque Porco cacchio Aspetta No Era Sono sicuro O era talpa Era un animale Vediamo Se mi ricordo bene Allora Resident Evil Ok 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 Cell È giusto Perché È Cell Infatti mi ricordavo bene Ma come non match Impossibile Login John Ha da password Per sbloccare Le porte Cell Ma Prendi per il culo Non è possibile Andiamo Raga Per forza Sto vedendo un video su youtube Ma Sono sicuro che era così John È giusto Ada È giusto Password Grazie a tutti Mo Aspetta Non è Mole Moll Vediamo Che dovrebbe essere talpa In inglese Se non sbaglio Moll Sì C'è ragione O è talpa Comunque qualche animale Sta E perché Cell No Allora Forse Cell È dall'altra parte O è nel remake Cell Perché potrei confondermi Con remake Può essere Bello che Gil fa Si gaze Fa così Quando c'è la zecca Le password Te l'avevo scritto Non l'ho visto Eh sì Mi confondo Sicuro Ok Abbiamo aperto Tutto Gil Colpisce Ancora Perfetto Ora abbiamo Tutto sbloccato Almeno le porte Elettroniche No no I video erano Quello Old Certo Forse C'è Ancora vivo Sotto Ho ucciso Allora Adesso No Queste qua C'hanno Le chiavi Per aprirle Oddio No Bastardo Maledetti Primo morso Che mi becco Nella randa Ragazzi In maniera Stupida Perché Ma Botta La vacca Sti Stronzi Era Nascosto Guarda C'ha il sonno Pesante Gloria Ci salve Niente Assupito Sopra Forse C'è Qualcosa Cioè Dobbiamo andare Nella porta Dove abbiamo Quella elettronica Sicuramente Lì Mi stava Struccando Infatti Ora È aperta Quale Dovrebbe esserci Il film C'è Il proiettore Ciao Fra Allora Entra Ok Ok Anche qui C'è una password Da mettere Mi sembra Esatto Qua c'è il proiettore Projector E qui Veniamo a conoscenza Di una cosa Importante Cerberus I cani zombie Neptune Lo squalo zombie Li hunter Famosissimi Non c'è bisogno Che ve li presento Il tyrant Che faremo Presto La sua conoscenza E questo Stronzo Di Wesker Che appare Con i suoi occhialoni Da figo E i camici Da laboratorio Eh già E qui capiamo Che Wesker Non ci ha detto Tutte le cose giuste Ok Devo ricordarmi Anche la password Di Ah forse qua è cell Forse non sono numeri Vediamo Ah una chiave Ah mi ricordo male Anche qua Che non c'è un tastello Mi ricordo che c'è un tastello numerico Forse nel remake Ragazzi mi confondo A volte con Con il remake Ma lui è di notte Porta anche gli occhiali da sole Se ci pensi Cioè lui è proprio fiero così Security system Ok Vediamo se qua c'è qualche informazione Tipo un codice o qualcosa Non dovrebbe esserci nulla Wesker Albert Wesker Pezzo di merda Ok 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 Top secret Il progresso di Tyrant Dopo usato il virus T E il resto del documento è illegibile Non dovrebbe esserci più nulla qua dentro Che ci interessi Quindi Proseguiamo Non abbiamo molto spazio nell'inventario Infatti sono indeciso se Va bene No Ce l'abbiamo Vabbè i modi che ci servono Ragazzi Aspetta ma qua Ma si può mettere il No Ok Abbiamo la chiave però Ora possiamo andare di sotto Ma in realtà Sono i classici Passcode panel No Devo Inserire Sì qua c'è Chris rinchiuso Devo inserire i modisc Nei computer Salve Quanti siete Sembrano balene Quando muoiono Questo Eh che bel post 1998 Most of them are fiction books Eccolo qui Eccolo qui Qua c'è il primo Fax Modisc Passcode 01 Ok Perfetto Passcode 1 Preso E va bene Quindi non dovrebbe esserci più nulla Se non Esatto Buonanotte Fra Ragazzi Li increbo Non li prendo più Perché tanto Uno mi consigli Mi Mi costano spazi E due Ne ho troppi Quindi Niente Fax Racco No Ho detto raccoon Invece mi sono sbagliato Non è raccoon T-Virus Ok Allora Adesso Disway cosa c'è? Qua mi sa che c'è la stanza delle lastre Mi sa Vediamo A conta che questo è uscito nel 96 Quindi Io l'ho giocato un po' dopo Perché ero piccolo C'era tipo sui 6 anni Forse Quindi era il 2000 2000 2002 2003 Avevo ancora la Playstation 1 It's too dark Cosa? Cosa? Cosa stai dicendo? Jill Ce la fai a prendere la piantina? Tanto dobbiamo usarla Perché siamo gialli Perfetto Ma 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 sta stanza Non ha il minimo ricordo Si Hola Researcher's letter There Dear Ada C'è C'erano già riferimenti A lei E di qua ti spiega Dalla password Eccola Vedi? Yours John Vedi? Qua capivi The password Mole Mole Password John John Ada Qua? Cosa è qua? Colpi di pistola Non li prendo neanche inutile Ah vedi eh Stavate Ok Aspetta Qua c'è una libreria però Questa si sposta 3 Apple Man Woman Qua traducevi Quello del documento Ok Direi che Anche qua Abbiamo preso tutto Andiamo Doviamo trovare gli altri Lettori dischi Ma qua spavano sempre i zombie Lab K Vai Sì da scarto Perché tanto non serve più a nulla Ma a me Resident Evil 1 Mi sembra che mio fratello Se l'era fatto prestare da un suo amico Infatti non era neanche mio Purtroppo Però l'avevano tenuto per un botto di tempo Perché ai tempi non c'era internet Quindi vedere le soluzioni non potevi Devi stare proprio Se ti bloccavi Rimani bloccato anche per Se settimane Ok Dalla parte era meglio Era più Oddio Che casino qua Piantina rossa Qua è un casino Qua bisogna fare Tutto un spostamento Di Di robe Allora C'è qua Niente Questi sono dei colpi di Fucile a pompa Che prendo Infatti mi sa che dopo Prendo il fucile a pompa Dalla cassa Abbiamo un po' di proiettili Allora Che devo fare qua Qua devo spostare la scala Praticamente Ah si ho capito Devo tappare i buchi del gas E mettere la scala sopra Il Il bottone Facciamo così No Ok Ok Questa è fatta Per Questa qui È un po' più complicato Però Perché Aspetta Aspetta Come cazzo faccio Oddio Questa scala è andare via Dal cazzo Da qua Tratta Questa scala Questa scala In Questaium La spesa ta La spesa Questa 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 Ragazzi io ce l'ho Tekken 2 Qua su PS5 Quindi mi sa che ci giocheremo Facciamo qualche partitella Scleriamoli ve lo dico Tekken 2 è difficilissimo No non entra Ti prego Devi entrare per forza Non ci credo non entra Putta la merda Sì Meno male Ok Chia Per farmi tutto No aspetta Ti dico un attimo di no Fammi vedere un attimo se c'è qualcosa qua Che l'ho controllato Strumenti per operazioni No non c'è niente Entriamo nel condotto Proiettili magnum Figo You look it Eh dark cloud l'hanno messo su Qua tra i giochi scaricabili su PS C'è anche il 2 mi sa Dark cloud qualcosa Si chiamava così Modisk Eccolo qua E un altro Ce lo siamo preso Passcode 2 Di cadaveri qui Ok E' il terzo Il terzo modisk Cazzo è Eh qua li sbocchiamo qui Non l'ho visto Porco Vai a cacare Che ho a spero che i munizioni Come una bellezza No allora è quella la porta Per forza No Ci sono già stati qua Oddio che trip Eh si che ce ne sono già stati Porca vacca Ma scusami eh Ma qua non abbiamo visto una stanza Per forza Qua l'abbiamo vista Qua siamo entrati No Eh si invece Oddio è trip Questo l'abbiamo usato E dov'è che non siamo entrati Scusa abbiamo visto tutto già Dov'è il terzo vettore modisk Vabbè intanto mettiamo i due Eh manca uno Scusami questa è la stanza Della luce blu no? Esatto Minchia che trip raga Porco Giuda No manca una porta Qua da qualche parte Comunque è impossibile Cioè manca una porta Non abbiamo visto una porta Allora Qui? Ok Ok E qui l'abbiamo usato Ok Quindi dobbiamo andare Nell'altra porta Eh si clare Stora esplorando tutte Per Essere sicuro che Ah ecco qua Non sono venuto Dov'affanculo Intanto doveva esserci una Sabron qua vicino Ok Infatti ero venuto qua Poi sono tornato indietro Come uno scemo È vero è giusto Eccoci qua Questa è una Sabron Perfetto Vabbè tu puoi star lì Tranquillo Entro la sera Ah Piantine Piantina blu E piantina verde E ci facciamo un'altra cura Full Eh raga Sto giocando Eh perdonatemi Sono immerso nel Nel mondo del survival horror Come si chiama il tipo Di grafica Di dark cloud Sì cartoon Sì cartoon Un po' in stile Zelda Se vogliamo Allora prendiamoci A sto punto Io mi muovo Aspetta no Questa non Esatto Prendiamoci No lo stile anime È diverso Lo stile anime Al first First shading Si chiama Mi sembra Vabbè il genere È un'altra cosa Quello è proprio Stile cartoon Allora questo lo mollo Ok Mi prendo Il fucilazzo a pompa Con le dovute munizioni E la magnum Direi che non fa ma piega Lo metto un attimo In ordine Inventario Ma Perché ho solo 6 colpi No aspetta È morato di qua Però 24 più 6 colpi Di magno Non sono male Proprio per niente Vediamo la salvatina 15 nastri Direi che basta E avanzano Ragazzi Teoricamente Vorrebbe essere L'ultimo salvataggio Che facciamo In questa run Quindi 9 salvataggi Per finire Mamma Considerando che non lo gioco Da anni Non male A difficile Sarà un po' più complicato Un po' tanto Complicato Allora Di qua Di qua cosa c'è Di qua dobbiamo trovare Teoricamente L'ultimo Mo Lettore Lettore Di dischi Che casino Oddio Santo No 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 È vero che qua Ci sono schifo Ci 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 No 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 Piglio di pu- Ma Quanto sei duro il mortaggio tuo? Cauchon Con un colpo Sette colpi di pompa Ma sono peggio degli Hunter Sti cosi Ma sei serio? Uso la magnum Ma sei fuori? Vaffanculo Ah t'ho sciottato con la magnum Ma il brutto stronzo E ma ero verde Cioè mi ero curato prima Sì Sì è vero La divisa strastricile è bellissima E c'è anche molto il colore Eccolo qua E Chris è salvo Oh Dio Casino Non c'ho sentito più Geine Avevano trovato una sola spola Sì 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 dai, non è quasi finito Gloria, resiste almeno la pietra che... comunque c'è che stasera lì non siamo con Chris sarà molto più difficile perchè c'è meno spazio di alimentare quindi dovremmo girare un po' di più poi lui ha spiegato, non ha berri che lo aiuta vabbè, vabbè, vabbè vabbè, vabbè, vabbè vabbè, vabbè, vabbè vabbè, vabbè vabbè, vabbè vabbè, vabbè torniamo la s***a da Chris c'è, andiamo a avvisarlo eh sì, c'è un casino tremendo là dentro, raga ma vaffan... sì, sti cosi comunque spawnano dai buchi sui muri spawnano sempre quindi è inutile accopparli tanto ritorno in vita ok ok pin e.... iniziamo, mica dovremmo finirla stasera paремa... chep� chang check che che cè bim 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 bim... adesso è Jill l'abbiamo finita in tre episodi Chris é secondo me è in cinque... sei Ecco loro sollte il specification Chris, tu sei vivo! Eccolo! Certo! Scusate, siamo in un'esperienza, Jill. Lo so, Chris. In ogni modo, devo aprire questa sala. Ah, non funziona! Beh, Chris, sicuro di tornare e aiutarti presto. Aspettate qui? Grazie! Sto aspettando qui per te. Ding 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 ding. Non lo so, perché l'originale, con Chris, abbiamo due spazi in meno. Quindi dovremmo girare un po' di più. E poi dipende, non lo so. Massimo quattro, cinque episodi. Adesso vediamo. Non ci vuole dietro nessuno. Aspetta di qua. No, pezzo di merda, maledetto. Maledetti bastardi. Caution bastardi. Tutti i morsi mi sono beccati a fine run. Praticamente. Pensavo di riuscire a schivarli invece. Prendiamoci un po' di cure perché ora c'è il Tyrant. Quindi servono le cure. Almeno due cure. Prendiamoci un po' di cure. Ok. Andiamo così. Dovrebbero bastare. Ok. Andiamo. L'abbiamo salvato prima Non salviamo E andare nella sessione clip La sessione clip del canale Ci sono tutte le clip storiche Tutte Le clip non si cancellano A differenza delle live Quindi rimangono per sempre L'ho push Yes Barry Fucking Barton E' lui Jill Tu sei anche qui Sì, tu sei anche qui Let's get going I lost my way I lost my way E ora ci attende il confronto con Wesker Wesker You did a fine job, Barry Just as I thought Già I think you should stay away from Barry, Jill I hear that his wife and two daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to You are so cruel You don't have to worry about anything Because you'll be free from this world very soon, Jill Sì, è molto diverso Why do you know how to destroy stars? That's Umbrella's intention This laboratory has been engaging in dangerous experiments and recently an accident has occurred Anyway, this disaster cannot be made public That's why having stars knowing about is so inconvenient So you're a slave of Umbrella now, along with these virus monsters I think you misunderstand me, Jill To me, the monsters you mentioned mean nothing I'm going to burn all of them together with this entire laboratory I must complete my mission, as ordered by Umbrella Barry, go up on the ground and wait there Barry! Barry's such a fool He'll be under the control of Umbrella forever How come both Umbrella and Hugh intimidate them Umbrella l'ho intimidato con la sua famiglia, prendendolo in stagio Umbrella, well, l'ho intimidato, ma non c'era nulla da fare con Umbrella L'ho solo usato per i miei purpose personali Although both you and Barry, you could think I was a warrior from Umbrella E' intimidato, vabbè, ragazzo, fuori Intimidato, come si ho detto, oddio Intimidato, come si ho detto, oddio What would you do? What if you were in charge? You must stop this now You're a brave girl But if I were you, I wouldn't give up such a big discovery You guys are idiots No one understands its real value So you're going to steal all the research? Better yet I'm going to show you the Tyrant Ti faccio vedere il Tyrant Grande Barry Ma lui, in realtà, è buono How was your family? Uh, I was listening to what you and Wesker were talking about I wish I realized it earlier I thought it must have something to do with Umbrella, you know So it's all been masterminded by him But it's good that you know that now Anyway, let's get out of this house first Jill Jill Yes, what? Do you have any idea what Wesker was going to show you at the back of this place? Well, he was talking about the world's most powerful biological weapon Called Tyrant or something, I think Do you think we could see Tyrant now? Barry, you're so optimistic It would look bad for Stars if we let such a dangerous creature run loose Maybe you're right Let's go then Boss fight Beh dai, con la Magnum dovremmo vincere Yeezy Teoricamente Eccolo E' lui E' lui The Tyrant Shoccati Glorici abbandonati definitivamente Can a creature like this really be the ultimate biological weapon? Really? Wesker is a crazy man Tyrant is not completely developed But we can't let it live Non possiamo farlo vivere In effetti No, Barry Non Non farlo Che non sei capace Non sei usarlo il computer di questa creatura Non farlo Sta palesemente digitando a caso E lo libera Bravo Barry Complimenti Dalla most E' lui E' lui Un Lo I Must Mi Mi Do Su Non posso controllare ciò che fa! Allora, la chiave dovrebbe essere da qualche parte. Barry? Barry? È vivo, è vivo? Sei vivo! Sono davvero... imbibili. Sono... troppo. Allora... ...controlliamo bene... ...sta stanza. Ma che è sto casino di notifiche su Instagram? Ah, la... Lara che mi menziona sulle... ...sulle foto. Allora... Qua dovrebbe esserci qualcosa, porco. Schifo, non c'è niente? No, che ansia! Io devo... devo salvarlo, Chris. Non esiste, eh. Forse la troviamo fuori, la chiave. Dove... dove era morto... Cioè, è morto. Dove era svenuto Wesk. Proviamo. È scappato! È scappato! No, la chiave! Dove la trovo, la chiave? No, la chiave! Non mi ricordo, raga. Devo vedere assolutamente... Non voglio... Non voglio salvarlo, Chris, però. Non voglio lasciarlo qua. Mi son fatto il culo per i modisk, non posso mai lascerlo. Fermi. Allora... Come liberare Chris in Resident Evil originale? Vediamo un po'. No. Ok, i modisk lo fatti. Ok. No, mi sa che l'ho libero in automatico Non ci vuole la chiave sull'originale Mi sa che adesso Dovrebbe essere aperta la La porta Spero In ogni caso salvo per sicurezza Sono tornato a lui, esatto, si Non ci vuole la chiave sull'originale A questo punto mi tengo la pistola, la mano, ma basta Grazie che l'ha Vabbè sta così, nel remake doi trovare la chiave in più Qua Come se di no Porco che cazzo di spavento Mi stardo Mi stardo Sì, è aperta, a posto Perché adesso si è disattivata la chiusura elettronica Ciao Chris Oh Jill Sorry for keeping you waiting So everything is done? Well, almost yes Now let's go Umbrella Inc 88 Benvenuto carissimo Bel nick L'umbrella è venuta a prenderti No, la cosa inquietante È che mi sono nata un allarme vicino casa Nel momento in cui c'è l'autodistruzione Va bene Va bene Allora Andiamo Chris Andiamo Andiamo Ok Siamo in 11, siamo in 11 Tutto bene, bello Grazie Sto rigiocando questo capolavoro Ok È un sogno di averlo Su PS5 È un sogno Io lo sto facendo con Chris Grande Io lo inizio tra poco Probabilmente lo inizio stasera Sto facendo l'array con Jill Poi farò l'array con Chris E poi rifarò l'array con Jill È difficile però Ciao Ricky98 Compensation plus premium Un momento, sì Aia Oh Vaffanculo Ciao Ricky Buonasera Grazie Simone Per il fallo Ok Non me l'aspettavo lo schifo di Di locusta qua Sempre definite formiche Salve Uno E uno due Guardate schifo Che belli emoticon Grandissimo Ragazzi abbonandovi Potete bloccare anche le mie Che sono sempre a tema Resentivo C'è il zombie Il leaker E Il lemesis Quindi Fermi tutti Io qua ricarico Per un'altra cura A questo punto Tanto ne ho Mi ha dato una bella scorta Di spy non li userò Mai Andiamo Chris Chris Redfield Anch'io Ombrella Inc Anch'io sono fan Da quando avevo 5 anni Il mio primo gioco Da mia vita È stato questo Quindi Rigiocarlo È un sogno Poi ho ottimizzato così Sul PS5 Ciao Alzo le mani Per farti capire Che sono un fan Veterano Si può dire Tra l'altro spero che Col plus mettano anche Il 2 e il 3 Spero veramente vivamente Brad Il quarto originale È bello Tra l'altro Non vedo il remake Del quattro Esce a Mars Non fatemi ci pensare Battery Speriamo Umbrella Speriamo Speriamo Devono Guai all'oso Non lo fanno Io ho una voglia Di giocarmi Nemesis Tantissimo Io andrei eh Eh ma sono ottimizzati Su PS4 e PS5 C'è tutt'altra cosa Sì sì Non esiste proprio Il paragone Hanno fatto tanta roba Guardi applausi Cioè io giocarmi L'originale In widescreen Col mio 50 pollici Cioè io sto sognando Sto godendo Poi si vede bene Cioè è proprio Fluido È tutto molto Compatto Molto bello Quindi pensando al 2 E a Nemesis Così Vengo Ok Flare Ci serve il flare Prego di chiamare Bread Il nostro Bread nazionale Spazionale Ok Vai Jill Spara il Più Vai Più Guarda Sembra un fuoco Artivia Più Dai Bread Quanto ci vuole Arrivare Due anni Già che ci hai lasciato In sta villa Adesso arriva Il Tyrant Tanto con la Magnum Lo sprachiamo male Eccolo qua Fatti sotto Amico mio Quanto sei bello Vieni qua PAM Bastardo Arriva Jill Kill that monster Rive la Amazon Jill Arriva Aia Ah siamo ancora gialle Ciao Vai vai Spariamoli in bocca No Ciao Ragazzi Finiamo la run La prima run Su Resident Evil 1 Originale Ragazzi C'è ancora la testa che fa Ragazzi abbiamo finito L'aran con Jill Sii Ci iniziamo quella con Chris Che bei filmati Guarda che opera d'arte E adesso il finale In live action Che bello Qua il mio cuore Qua il mio cuore Qua il mio cuore un po' piange Vederla distruggersi Però Quanto sono belli Si Si Chris così Non ha fatto un cazzo Chris Ha fatto tutto Jill però Dettagli Belli Che Teneri E i nostri eroi Hanno completato la loro missione Di sopravvivenza La musica Che bello Guarda che Che bello Che emozione A finirlo È épica È épica Quanto sei figa 5.29 Ci ho messo 10 salvataggi Beh Non ho usato manco uno spray Non ho usato manco uno spray Tra l'altro Sto poster Sto foto È Quella che ho usato Per La copertina della serie Ma Quindi non mi dà il grado La chiave Del guardaroba Bellissima Trova il guardaroba In realtà L'abbiamo già trovato Cioè Sappiamo dove Ma quindi Non dà Il grado E mi ricordo Che dava Mi ricordo male Evidentemente Mi ricordo che dava Il grado 0-0 Main hole Perfetto Cos'era quello Cos'era quello Cos'era quello Bug Che bello Che bello Che bello Che bello Allora ragazzi Faccio ripartire La live Perché Dobbiamo iniziare Chris Allora Viva Gloria Non è Non è deceduto Ma Ma allora C'è Secondo me Si è svegliata Di soprassalto E ha scritto Comunque ragazzi Vi ringrazio Per aver seguito Questa serie Rimanete qui Perché Tra poco Iniziamo Chris Quindi Rimanete qui Riavvio subito La live ragazzi Grazie per aver seguito Jill Ci becchiamo Tra pochissimo Con Chris Non mi muovete Grazie a tutti